Ciao a tutti ragazzi, bentornati qui sul mio canale. Oggi ci siamo quattornati con un nuovo pronostico gameplay. C'è un big match in questa giornata, è Demira, Roma, signori, partita. Veramente importante, molto molto complicata per entrambe squadre, infatti qua siamo per fare il pronostico gameplay. Ok, una volta vinto lui, potremmo anche fare tipo eleggere il campione alla fine di tutti i prossimi gameplay, in realtà 2 a 1 per lui perché la prima abbiamo pareggiato, la seconda ha vinto. Oggi ha appunto toccami da Roma, pari di spari, per chi prende chi? Dispari? Pari. Bimba. Bimba. 5 dispari, eh vabbè si prende il mio, tifoso il mio, in realtà non so se è più forte il mio. La Roma è una bella scodretta, è una bella scodretta, è la bella scodretta, in realtà più o meno, equilibrate, si si, equilibrate magari ragazzi, e qualcuno vuole prendermi il mio, tifo Milan, perché tifo Milan, tu Allora ho 20, car 2008 fuori, perché non n staffi, non n京ci di squadra. Qua siamo tutti, voglio tantissimo provare il cameracemi, che sembra veramente forte, da acquanto. C'è sempre tanto tanto roba, matici è molto lento. Ma per esempio leggere. certo che c'è mani anni a no 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 è rotto infortunato non giocherò mai per l'attacco zaino pellegrini zaleschi spinazzola me lo porto in panca di balas ce la fa giocare è un posto di zagnolo va bene faccio un modulo un pochettino anzi metto spinazzola a destra posti c'è ric dopo se c'è un centrocampista in grado di sostituire ma che c'è un po' se cristante un po' di velocità almeno non ce l'ha un po' ah no intanto metto l'uomo arnold no we're at non si riprenda bene ora prova a mettere anche volpato ma che è in panca al posto di tipo cubulla test quando c'ha cristante di oro e' un po' posto con il modulo è messo ovun ok signori basi va si insegnando ok signori ci siamo siamo in campo ma la mia a roma il power short lo voglio imparare io così cari anche perché comunque un tuo tiro per ora quindi è giusto che bene siamo partiti poi sandrino tonali che interventi spinazzola poi camara fitta straordinaria camara c'è anche pellegrini servito ma c'è ancora camara spinazzola salesti salesti per di bala perchè c'è sta roba che ho fatto io ma come no ma no ma è tutto corretto ma come è semplicemente un altro modo di correre più velocemente ah se qua a cristante cristante fallo ripane di vantaggio state per la vola per di bala di bala se qua lo scambio ebram pala buona per spinazzola no se l'è divorato se l'è divorato se qua leao la fa leao 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 ancora lui leao 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 fermato proprio per zaleski c'è anche di bala bravo cristante cristante c'è anche ebram ma c'è tomori ferma tutto tomori 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 pala buona girù e che te l'aree fermato questo è il mostro no a giallo fidati infatti calcio di evoluzione milano occhio occhio lì che questo io mezzino a ritorno a ritorno tonali lui patricio facile le patricio per camera occhio o no voglio andare a vedere una roba se qua pellegrini fermato però ancora il mio conto mori ferma la sua volta da lorenzo pellegrini poi camara per pellegrini c'è anche ebram scatti in profondità cambie ebram te ebram 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 palla dentro ho sbagliato tutto sbagliato tutto sbagliato tutto no non ci vuole non ci credo ho sbagliato tutto qui a ternandes ternandes provo ad avanzare ternandes ebraim te ebram ebram andrata teo knod cerno ebram 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 calcio l'angolo calcio l'angolo le specialità calcio l'angolo se il suo dentro ho no ok no vero assai ho sperato un attimo questa raccogluevo fatto sbagliare a parte come è passato io voglio capire come è passato allora c'è un cosiddetto guarda come una serie su questa cosa gli da toccata colori non l'anno ma questa era con sicuro ah beh era defilatissimo potrei metterle da dentro ok occasionissima per le au lui patrice cristante grande palla questo per diballa 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 alto ecco io non ho ancora volato il mio tiro tomori 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 camara ancora cristante colpo di testa pellegrini per la palla per Abraham niente però parla bruttina devo essere sincero non è bella come le altre due per ora tomori ma che è un pazzo qui a benasser benasser ferma tutti i bagni esche però sbaglia e allora attensi qua giru attesa per Abraham Diaz per la da Calabria 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 Zaleschi ma con fallo calcio di punizione ancora da lì tonali è bella sta punizione tonali alta di po' afferro io rivederla no ma come faccio la schifo io l'ho visto sulla traverso da un po' alta di poco non era male invece le patrici stanno semplicissimo di darle no è molto vero era molto meglio l'anno scorso se qua spinazzola c'è anche erano se ti spinazzola tamiram che ha sbagliato se qua tatarugianu invio lungo smolling smolling attesa qua erano ancora erano erano spinazzola pinazzola per camera che si inserisce camera 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 finta camara tatarugianu occasi sia per la roma forse venire in poi la telegrini azza cross palla dentro il tiro deviato però deviato da volte equilibrato eh no aratano hai fatto più tu hai fatto più tu di me però anche io non è che ho fatto una schifosa ampi 4-5 un gol previsto ok voglio fare per un cambio sinceramente perchè mamma quanto è modo l'offensivo tua no ma è straoffensiva allora voglio mettere eeeh matic anzi no provo la carta volpato la carta volpato al posto di cristante e poi provare sciaraule posti zaleschi questo questo sono i miei cambi già due me ne sono bruciati si riparte serve qualcosa in più e sarà un bello il pallone questo per pellegrini che ci arrivi in qualche modo pellegrini lavora per spinazzola piaccia alla spinazzola finta spinazzola rientra spinazzola ebram di valerì per lavorare di bala di bala di bala che schifo mamma mia tomori vale per calabria colpo di testa polpo di calabria polpa calabria a terra colpato polpato adeser spiazzola piaccia la spiazzola il crosto testo il giro l'unico il bellissimo di lorenzo pellegrini da roma vossi vantaggio sull'errore per il milano 1 0 lorenzo pellegrini è un gol da vedere questo gol da ma che non ha fatto volpato non è vero perchè calabria 4 mamma mia voglio del genere come fa a esistere la vita reale mamma mia però era ero 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 l'avrei preso comunque però era comunque non è vero ma dentro sergino destro non c'è altro allora vada bene mi ampa occhio un'è finita terra caso smolling rimane lì ok ancora un po' l'errore precedente se qui occhio occhio lea occa amare se non ci fosse camara camara che partì ha fatto un camara le pole per pellegrini pellegrini per il camara le pole incredibile camara camara no non c'è il tiro non hai piedi no non è che sbagliato no se l'è mangiato ma anche la porta preso non c'è che io lo sapevo l'avrebbe sbagliato quanti è una grande palla lea non lo prendiamo adesso su primare a un primo lea oltre ossa aiutato bravissimi bagnetso attenzione al tiro se volpato ho fatto un di una grande partita a di bale fa esce rawi esce rawi per volpato finta volpato parava la charlie alzè saraui esce rawi esce rawi esce rawi parola del giudicino per l'uomo ricorda c'è la grossa sto dominando io sto dominando io ma chi è il volpato ho fatto bene se qua pellegrini pala dentro il crossa arriva il tuo tutto l'uso tatarusano se ricca dentro se il campo si spina sola per noi sto dominando io in questo secondo tempo non c'erò partire l'uomo terzo ultimo cambio dentro fuori camara dentro zagnolo pellegriscia bassa centrocampista per il camara hai scato due volte il cartello rossi cambio a centrocampo è finito i cambiamenti ok signori anche io li ho finiti no tre camisolo no io 3 3 4 il bambino se qualcuno osserva dentro arriva poi i bagnet il bambino il tiro rimane lì occhio occhio ancora andiamo dietro andiamo dietro se qua di pala la pala per sciaraui e saraui e saraui il crosse vero per di pala colpo di testa era brutto però era brutta l'ora tonali ripartenza volpato lo stecca se qua dall'altra parte per rebic rebic c'è anche mancini no rebic 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 e palla dentro il grosso small league che cosa ha fatto poi cosa ripartire tagli a roma che errore tonali 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 termotto sard Berkeley di pala esse har grandy balla colpo di testa il grigio orlegrini lavora per zagnolo sonio moro saio solo automatico fallo paura già lo 5 allo la voce tonali di cross il colpo di testa liberare mancano pochissimi minuti ripartiamo in contropiede zagnolo zagnolo per sua bandierina zagnolo 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 il cross messo dentro niente cavolo cooperato adli no no adli occhio occhio adli però per te che tirare de che tirare come ho fatto andare giù e che era pollo del gioco per un po' di rischio monumentale rubatricio monumentale prima tornare fa la buona attenzione il tiro colpato spazzavia finisce finisce qui la roba vince meritatamente contro il mio per 1 0 mamma mia possiamo rivedere mamma era gol quello era gol no non c'è mamma mia no non lo fanno rivedere non ci vede scusa battuti la porta la tua tuoi esimo la mano è però io ho fatto più tiri c'è io le sfio guarda lì guarda lì volpato cambiato la partita insieme a camaraderie intorno a camara e ok